Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo Viti in questo nuovo video, naturalmente come sempre ricordo di distruggere il botone like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale Telegram In tantissimi avete scritto a riguardo di questa pre-sale via Instagram, via email, via Telegram E ovviamente, come sapete, io vengo letteralmente sommerso di richieste per quanto riguarda le pre-sale, ma anche progetti interessanti E 2-3 volte a settimana vado a selezionare tali progetti, letteralmente recensibili Per cui, all'interno di questo video andiamo a vedere la nuova pre-sale di i-tuk-tuk E per cui, iniziamo subito Per cui andiamo subito a vedere questo progetto ai-tuk-tuk, ok? Un nome particolare Però tratta di un progetto che potenzialmente, ok? Potrebbe andare a fare numeri, è rivoluzionario Perché per l'appunto va a integrare Green, ok? Abbiamo visto come più volte anche nel settore Bitcoin si è parlato di questo problema Del Green è intelligenza artificiale Quindi sicuramente un progetto, ok? Unico nel suo genere Che va a unire l'ecologico insieme all'intelligenza artificiale Vi ricordo che si tratta di una pre-sale, ok? Che va a scadere la prima fase, ok? Tra 16 ore e 31 minuti E il prezzo in questo momento, per un tuk, è pari a 2 centesimi e 4 Quindi probabilmente, Mari, se voi andate a pigiare, ok? Sotto il link che trovate in descrizione Ok? Vi si aprirà letteralmente il sito Potete trovare un prezzo, ok? Leggermente più alto rispetto a quello attuale Perché vi ricordo che la prima fase andrà a concludersi Quando verranno raccolti 291.000 dollari Finora sono stati raccolti 190.000 dollari Voi potete acquistarlo o attraverso BNB, come vedete dal sito O West.it o attraverso carta Quindi basterà letteralmente collegare il vostro Metamask E potrete letteralmente, ok, investire in questo progetto Tra l'altro viene anche qui, vediamo, sponsorizzato anche da Binance Quindi potenzialmente, Mari, vedremo se un giorno arriverà su questo Chex, ovviamente tra le varie pre-sale che voi, ok, mi iscrivete Io vado a selezionare quelle che potenzialmente, secondo me, possono essere più interessanti Ma per cui andiamo a vedere più in particolare questo progetto Perché per l'appunto ci parla di trasporto sostenibile Unito all'intelligenza artificiale E loro addirittura definiscono che questo andrà a rivoluzionare Ok? I trasporti all'interno dei paesi in via di sviluppo Ok? E questo potrebbe essere letteralmente futuro Quindi attenzione da non sottovalutare, ok, questo progetto Perché abbiamo visto che progetti che iniziavano, ok, all'interno della pre-sale Poi Marine Buran sono arrivati anche su vari chex e hanno fatto letteralmente numeri Ovviamente vi ricordo che non sono un ecosistema, un ecosistema di trading E soprattutto questi progetti vanno tra le rette presi con le pinze Perché vi possono anche dare letteralmente un 100x Come potete perdere letteralmente tutto Quindi io ovviamente ribadisco sempre tale concetto Dopodiché, per l'appunto integrazione dell'intelligenza artificiale Che come viene utilizzata all'interno dei trasporti Sostanzialmente per individuare, ok, dei percorsi di traffico Ok? Per andare a ridurre il traffico E in questo modo anche favorire, ok, in qualche modo la diminuzione dell'inquinamento Perché sappiamo essere il traffico una delle principali forme di inquinamento E con la costruzione anche di un'infrastruttura intelligente Quindi i pionieri, ok, potenzialmente di questo progetto potrebbero letteralmente fare i numeri E tra l'altro volevo anche mostrarvi come la quarta fase Che secondo me è la più interessante La manutenzione predittiva La nostra integrazione I pianifica gli interventi per prolungare la vita del veicolo Riducendo al minimo gli sprechi per un token criptografico affidabile ed ecologico Quindi questa potrebbe essere letteralmente la rivoluzione La rivoluzione integrazione della I all'interno di un veicolo Quindi veramente qualcosa di pazzesco E andremo poi a vedere come anche sono andato a costruire un play, ok, to earn All'interno di una città, in particolare Sri Lanka E come vedete questi sono anche gli investitori Tra l'altro il token che è possibile anche mettere in stake Quindi andrete a ricevere le rewards, andremo poi a vederla E eccolo qua il play, turn Perché l'ITTUC, questo token Vi permetterà che cosa? Di sfrecciare letteralmente all'interno delle strade di Sri Lanka Ok, come primo elemento E guadagnare in sostanza simile a Crazy Taxi Ok, di Tempios, vi ricordate quei giochi Di guadagnare i token Quindi secondo me è un progetto molto interessante, ok, come play, turn È vero che abbiamo visto anche nel precedente Buran Come se ne sono costruiti tantissimi Però questo nasce all'interno di un bear market Quindi potrebbe essere molto molto interessante Poi abbiamo la roadmap Costituita da quattro fasi Ora io andrò letteralmente a riassumerle Prima fase che stiamo vivendo Lancio, ok, della pre-sale Come voi sapete L'abbiamo in questo momento Quindi ti ricordo ancora una volta Trovi sotto il link in descrizione Se vuoi partecipare alla pre-sale Tra l'altro poi Implementazione, ok, del tutto all'interno della città Dello Sri Lanka Implementazione anche dello staking Che andremo ora a vedere Le rewards che essi ci danno Dopodiché, terzo elemento Le prime stazioni di ricarica installato Che in Sri Lanka Quindi le vogliono letteralmente attuare Addirittura al vivo Vedremo se sarà così E poi, altro elemento fondamentale È questo del lancio, ok, del token Sui vari checks Quindi insomma Se arriverà sui vari checks Probabilmente vedremo un prezzo di gran lunga Rispetto a quelli attuali Infine Quarta fase Quello dell'annunci in collaborazione Col governo Sri Lanka Quindi veramente sembra Vogliano fare le cose Diciamo In grande Ok, perché insomma Andare a occupare un paese Come la Sri Lanka È davvero un qualcosa di pazzesco Quindi intanto Andiamo a vedere queste fasi Che si concluda bene la pre-sale Che venga l'istante sui check Checks Già sarebbe comunque così fenomenale Perché implicherebbe veramente Potenzialmente di buoni numeri Ovviamente non è detto che tutto si concluda Per cui vi ricordo Pre-sale Uguali Alti rischi Ma anche potenziali Alti Guadagni Dopodiché volevo starvi anche In questo momento L'API Ok, molto alto 1113% Ma secondo me Le andranno Pian pianino Ad abbassare Il numero Ok, di TUC Messi in questo momento In stake È pari a 4 milioni Questo è Le previsioni Ok, che fanno Dove addirittura Lo stake potrebbe arrivare A circa 80 milioni Di Token Quindi vediamo Un po' quello che succederà Però diciamo Ci sono buone prospettive Per quanto riguarda Questo progetto Dopodiché Volevo mostrarvi anche Un audit Ok, che è stato fatto Praticamente sono quei famosi controlli Che vengono fatti Sui progetti Quindi se volete Saperne tutto Trovate il tutto All'interno del sito Ma ve lo mostro Ok, praticamente Un token Eccolo qua Il contratto Qui ci danno Praticamente Zero rischi Sembra In sostanza Legit Ok, come progetto Se volete comunque acquistarlo Anche qui potete connettere Il wallet Quindi Almeno quello che ci dicono No honeypot No high Selfies Cioè ne abbiamo Delle tasse di vendita Che sono al 0% Quindi praticamente Non vi vanno A prendere soldi Sulla vendita No honeypot Cioè che non vi scammano E quindi vediamo un po' Quello che succede Però Ricordo sempre Progetti super rischiosi Però è interessante Andare a vedere Ogni tanto Per cambiare Anche questi progetti Poi Io sono andato a guardare Anche maggiormente Ok, sull'audit Vediamo comunque Un token Che si basa Sulla Binance Smart Chain Abbiamo il contratto Solidity Penso pochi di voi Siamo venuti a utilizzare Solidity Però Praticamente L'han creato Il 22 settembre Del 2023 E' stato fatto Questo audit Che praticamente Un controllo Da parte Di un evento terzo Che va Ad indicare Ok Che il token E legit Quindi molto molto Importante queste cose Dopodiché Andiamo a vedere Anche quello che è il twitter Perché comunque Conta Tantissimi follower 32.700 Quindi già Si sta formando Una community Ha fatto Anche Vari tweet Che potete andare a vedere Se volete Andarle a vedere Comunque Le views ci sono Quindi rapporto Comunque views Follower Potenzialmente Potenzialmente Sono Vari Qualche follower Così può essere Per regolette Comprato Però La community C'è Di questo Volevo dire Infine Se anche tu Vuoi Saperne più Che su questo token Ti ricordo Che trovi Anche il gruppo Telegram Così puoi scrivere Puoi informarti Puoi saperne più Ti ricordo Nel caso Volessi Acquistare Questo token Ti lascio Il link In descrizione Perché ovviamente Quando nascono Queste pre-sale Nascono Anche Tantissimi Scam Quindi Pointruff Simili Ma che non sono Questo token E per chi si è piaciuto Questo video Ti ricordo di Suggerire il like Iscrivervi al canale E noi Ci vediamo Presto Hasta la vista Ombre